Moabetter Tour Blues a Caserta Vecchia, sperando nella clemenza del clima. Il tempo, speriamo che smette di piovere, ma ci hanno assicurato che per le otto dovrebbe smettere. Assolutamente, poi noi solitamente portiamo il suono, forse oggi abbiamo un po' di ritardo, un po' di delay, ma diciamo che molte volte ci chiamano proprio per il clima più che per i concerti. Parla per lui. Sì, no, io parlo per lui, parla per lui, ognuno parla per sé. Venendo al vostro spettacolo, io ho ascoltato una vostra intervista a RDS, voi volete insegnare ai giovani una musica che forse è diventata un po' di nicchia? Magari insegnare forse è una parola che ci dà, come dire, una... No, insegnare è troppo. Però fagliela vedere, fagliela scorrere. Assolutamente, questo è il nostro intento, oltre che al ricostarci, è la nuova. Ciao Eli, come stai? Vieni al concerto?